Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui e andiamo avanti con il nostro Balotelli Certo, dobbiamo fare altri acquisti Dobbiamo comprare altri giocatori Lo faremo, spero Però Balotelli è una garanzia Non me lo sarei mai aspettato di dirlo nella mia vita Ma Balotelli in FIFA, o almeno in questa stagione, è up Andiamo in game Facciamo in casa ragazzi, andiamo Prima partita Tululu Matthew Il primo gol di Matthew E l'ho anche venduto Cioè l'ho anche dato in prestito Si è risentito e ha deciso di far gol Cioè nella live scorsa ci ho provato da tutte le posizioni ovunque Non ha mai fatto un cazzo di gol Prima azione in sta live, prima partita, gol di Matthew E l'ho dato anche in prestito per un anno Ma vattene a fanculo Guardalo Super Mario Mammeta No Mammeta è il cognome Mario 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 Arrivo ragazzi Dato un secondo Eccomi Scusate No Mi piace Joe Gamer Chiamazzino 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 No Madonna ha parato il tiro a Super Mario Mortacci tua Cioè vabbè dai Pare anche la rovesciata Ballotelli Ma lui c'ha la mamma puttana Guarda Metti dalla distanza Per No no basta Non dico più niente Perché vabbè gli altri ci stanno Ma i giovani E vabbè ci stanno Perché puoi trovare veramente dei cambioni Dei cambioni Mi sembrava un mal gioglio Dei cambioni Ballotelli Vuole provare da solo? No Vede Barnett Beh Mamma mia Però adesso dobbiamo vincere qualcosa Se no lo prendiamo veramente nel culo Chi è centrale? Il Coccodino Guarda Paffundi Madonna Paffundi Che recupera un pallone incredibile Samaras No no Questo è Samaras È certo che lui Samaras Sbaglia E lui per forza E là Comunque Da quando abbiamo cambiato il portiere Sono contento Da quando abbiamo cambiato il portiere Sono contento È molto molto bravo Certo Abbiamo preso gol la volta scorsa Però Devo stare zitto Io devo stare zitto Samaras Ti prego Ti prego Un'azione bella Fai un gol Provaci almeno Ti prego Che poi era Era alto Faccia gol in rovesciata Pazzesco Palulù Ah Pululù Io lo chiamo Palulù Ma è Pululù Bella Hines Gol Dai Ma Tut Samaras Ti prego Madonna mia Samaras Se tu gli dai la palla E deve gestire La palla Non è capace Se gli dai una palla del genere Che è capace di far gol Anche il più scarso del mondo Lo fa La volta scorsa Faceva gol così Gli davi una palla Che era Gol E per forza Faceva gol Che adesso abbiamo delle riserve Ma Aia E niente Oh il portiere è scemo oggi No il portiere è scemo Non è possibile Ho preso due gol così Due gol così E appena iniziate la partita Gli ho detto Beh il mio portiere non è male Sono contento di averlo Boom Ho preso due gol da imbecille Perché non riesce a parare Che cazzo c'ha oggi Cioè Portaci a Eh cazzo Oh no Chi Niente Non ce la fa Non ce la fa Oh attenzione La parata Pazzesco Il suo lavoro Ha fatto Che è successo Chi è Oh Non è Samaras Samaras è bianco Chi cazzo è Chi è Chi sei Ah Mi ero già dimenticato Mi ero dimenticato Di Charlton Heston Qua Vai Siamo contro il professore Eccolo qua Adesso dobbiamo Veramente Sperare Solo Vabbè Parkinson Eccolo qua Attenzione Giampiero Parkinson Madonna Parkinson Barnett Rigore Ed è proprio lui Super Mario Detto Balotelli Gliela parano Certo De Luca è incazzato Dice Oh ma vaffanculo Mario Fai un gol Per favore Non fargli pensare Alle cose A Kunlingus Per forza Per forza Per forza È proprio lui Conilingus Conilingus L'ho detto così A casissimo Che era Conilingus Ne ho tre Che sono biondi Ho detto Conilingus Ed era veramente lui Conilingus Super Mario Super Mario Non sarà bravo nei rigori Siamo d'accordo Però Super Mario C'è Che lancio Incredibile Poi Barnett Non la prende Ma questo Calcio di rigore Scusa Scusami Voglio rivederla Beppe Era in area Ma quanto pare Forse sì Balotelli Riuscirà a segnarlo Questo Secondo rigore Sì Da Oh Uno ha sbagliato Uno Faglielo fare No Io ricordo Che c'è tipo 90 e passa Di rigore Balotelli Summers Ormai la squadra Vola Super Mario Anche dal di lì E con questa Firma La sua Tripletta In questa partita Mai abbiamo messo Anche Conilingus Centrale Beh Non è male Solo che Non è da titolare Cioè Non è Uno che dovrebbe Star titolare Mario Che inserimento Che inserimento Di Super Mario Balotelli Madonna Come ho fatto a sbagliare Gliel'ho voluta dare Non me ne frega un cazzo Questo è fuori gioco Lo so Ma gliel'ho voluta dare Gliela volevo dare Volevo fare C'è sa gol di rovesciata Puttaneva L'ha fatto Però è fuori gioco Perché alla fine Ha sempre giocato bene Anche nella posizione Classica Cioè L'attuale Ah Lulu Posso farlo Il gol della merda Una volta Scusatemi Il gol della merda Una volta Lo devo fare Comunque Possiamo dire Quello che vogliamo Ma abbiamo Delle persone Che fanno Dei cross Comunque Degli assist Paffundi Paffundone Paffundone It's back È tornato Il Paffundone Mamma mia Il Paffundone Io vi ricordo C'ha 16 anni Io a 16 anni Non lo so Mi facevo dalle 12 Alle 18 pipe Al giorno Raga Io vi ringrazio Per la compagnia Ringrazio tutti Ci vediamo Giovedì Sempre la solita ora Grazie per la compagnia Alla prossima Grazie mille Grazie mille Grazie mille